dondino dondino ho bisogno di un aiuto e dimmi carà amica cosa mi devi dire di così importante è che c'ho sempre voglia io c'ho sempre voglia lì sotto è sempre un forno incredibile incandescente a mio marito ce l'ho messe tante di cona purtroppo sarò affetta da ninfomania da pornografia non lo so una donna santa virami ma non si può sentire ci può vedere questa è una cosa veramente è proprio importante non lo so una cosa scabrosa non so come dire veramente però non lo faccio apposta se c'ho voglia c'ho voglia madonna mia ma dovevo trovare il modo per farti scontare e spia di questi peccati sì come posso fare dondino me lo dici per favore un modo l'ho trovato e in canoni ma in canoni carani stasera e ti faccio scontare i peccati e capisce a me al vestito e sconti tutti i peccati tranquillamente davvero dondino sì assicurato garantita al cento per cento tanta roba proprio grazie dondino allora sono contenta e mi preparo e stasera vengo da te sì i peccati saranno solo un incontro like a questo video comico